Stato di attenzione in Veneto per una nuova perturbazione in arrivo, già anticipata nei giorni scorsi, sta raggiungendo il territorio e potrebbe portare piogge consistenti soprattutto sulla parte montana e pedemontana del Veneto. Il possibile verificarsi di rovescio temporali localmente anche intensi potrebbe creare disagio a sistema affognario e lungo la rete idrografica minore. Si raccomanda agli enti interessati di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti sul territorio di competenza e di prepararsi con congruo anticipo rispetto agli orari indicati nell'avviso alla gestione di eventuali fenomeni emergenziali. L'attenzione viene indicata fino alle 14 di giovedì. Allerta anche sulle montagne per i comuni che hanno in atto una procedura specifica di allertamento per colate detritiche. Si segnala un livello 2 di attenzione rinforzata anche per la giornata di giovedì.